Ferre, ti ricordi di Woody e di Coin? Sì, certo che me li ricordo Sai cosa facciamo oggi? Eh, no Torniamo a riutilizzarli Oh mio Dio, mi mancavano un sacco E come, Steph? Che faremo? Allora, praticamente verrai sfidata Quindi io non li utilizzerò, ma soltanto tu Ok Verrai sfidata al migliorarli il più possibile Perché noi li avevamo iniziati a provare un pochettino Eh certo, ma non li abbiamo Ma non eravamo andati dip 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 Su tutto quello che possono fare Potenziati Sai che possono fare cose assurde, sti robi? Ah sì? Cioè, diventano delle armi da guerra se tu vuoi Vabbè, ma che belli che siete allora Quindi secondo me è davvero interessante Quindi ti spiego come funzionerà la sfida Io ti darò Sì, non ho capito come mai sta bruciando tutto Sta bruciando la foresta Francamente non ho capito cosa sia successo Cioè che è successo? Penso un fulmine Però è andata così Vabbè Va bene Tu fai finta di nulla Che bella ambientazione Non guarda basta che guardi dall'altra parte C'è più di caldo, no? Guarda dall'altra parte Va bene E ti stavo dicendo Non è che mi stavo facendo scattare tutto Quindi dicevo perché mi sta scattando Minecraft? Mi giro e mi vedo la foresta in fiamme Tutto lì Ti dicevo Io ti darò singole sfide E ogni volta che farei E completerai una sfida Tu potrai potenziare il tuo voody Ok Ti dico già No, non si chiamerà voody Questo sarà un altro Lì hai un altro nome? Eh sì Ok, va bene Fatti gli affari tuoi staff Non è un problema tuo Ok, ok Allora ti ricordi come si addomesticano? No Con i fiori Con i fiori Spero di no Spero di no, francamente Ma sono tutti i fiori? O erano solo quelli gialli? Eh, no, boh Si mangiano un po' di tutto Se ricordo bene Vediamo se questi vanno bene Però se non ricordo male Erano quelli gialli, Steph Dici solo quelli gialli? No, secondo me no Dove è finito? Ma hai detto dove sei? Si mimetizza Birillo Sì, birillo Allora Non buttarti l'acqua che muori La prima sfida Ok Gli devi dare un'ascia di legno Dato che è un poveretto di terra E devi riuscire a far prendere Al tuo birillo Dieci di legna dagli alberi Ok, vieni qua Aspetta, gli devo dire Devi dirgli di seguirti Non nega Che mi devi seguire Ok Secondo me non ce la farà Renderlo fortissimo Guardate Non riesce neanche a far uscire dall'acqua Porca miseria, Steph È un po' imbecille Tu o lui Non mi dovrebbe seguire Vieni Allora vai più avanti Qua Eh, sta nuotando È lento Perché ha la speed bassa Quando è fatto di terra Ok, ce l'è dietro Ce l'è dietro Ce l'è dietro Allora, dobbiamo andare in un posto Con degli alberoni Tipo questo è un bel posto Ok Vieni Dopodiché Gli devi equipaggiare l'ascia Gli devi impostare Che è un taglialegna Vieni Birillo, corri Dai che sei veloce Quella è gabbina Forza Imbarazzante Vogliamo vedere muoversi Birillo Ce l'ha fatta In cinque minuti Però ce l'ha fatta Ok Birillo è arrivato Lo devo mettere in V-cutting È troppo divertente Comunque Ok V-cutting Ok E come le metto le cose E devi andare sul suo equipaggiamento Non è È la pagina successiva Ok Questo è il mio Lì Qui Sì Cioè qui Sì O qui Così Sì vedi che adesso c'è la mano Vai E gli hai impostato che taglialegna Sì Eccolo Guarda lo sprint Steph Più o meno Guardalo Ma ma scatti Sprint a scatti Perché è un po' scarso Però lui sta a fare tutto Vai Ma lo sta tagliando l'albero Tutti i consulini ti vogliono vedere muovere le braccia Ce la sta facendo Tu che stai rompendo tutto Sì 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 Perché volevo Hai rotto anche la terra Volevo verlo meglio Sono un po' troppo forte Ok Lasciamo in pace Tutti i consulini ti ti fanno birillo Forza Birillo Il sostegno di tantissimi consulini Steph imbecil Non sta tagliando nulla Guarda Secondo me è la tua influenza No aspetta Quanti mi avevi detto Dieci Eh ne ha otto Ma da dove li sta a prendere Non lo so Ma lui Allora ci puoi cliccare se vuoi E controllare Anzi poi ti darò la legna E ti dimostrerò che lui l'ha presa Ne ha otto Non posso aprirlo io Perché tu ho Quanti ne ha Dieci Prendili e dammeli Allora il primo upgrade Che ti voglio dare Sono per undici Steph Ok Il primo upgrade Che ti voglio dare È questo Che praticamente Come puoi leggere Ti permette Di potenziare birillo Nel tagliare la legna Ok Ok Aspetta Devi andare Nella seconda Esatto lì E lo devi potenziare Dove Non ne ho idea Forse qua Clicca fino a quando Non trovi un punto Dove si può mettere Non c'è nulla No Ah lì Ok Lui così in questo modo Mentre taglia la legna Ha la possibilità Una possibilità su quattro Di tagliare Un Diciamo Un log Istantaneamente Quindi va ancora più veloce Nel tagliare la legna Mettiamolo Ok Quindi Vai Dovrebbe essere straforte Ok esatto Lascia la tagliare la legna Se finisce tutto quest'albero Che è abnorme Ti darò il prossimo upgrade Birillo ti devi impegnare qui eh Beh guarda che Se tu guardi Sta tagliando l'albero dall'alto Ah Sì lo fa rovescio Esatto Esatto Ok A modo suo A modo suo L'importante è che lui tagli l'albero Non che Non è una cima Dai Mirillo Steph No no io no Mirillo è più intelligente di te Tu sai tagliare gli alberi dall'alto No Bloccalo che mi sto addormentando Ti prego No stai devo finirlo Non rompere Lo deve finire E che facciamo nel mentre Lo guardiamo Lo guardiamo Tu l'hai proposto Dai è quasi finito Non togliergli la soddisfazione Sei felice Ho capito però Felice Allora vieni qua nel mentre tu fare Questo è ciò che gli dovrai dare dopo Tieni ripianto anche gli alberi lì nel mondo Ok brava Ok Ok Ovviamente Birillo dovrà combattere E lì rischia Ti consiglio di iniziare a prendere qualche fiorillino Perché il tuo modo per curarlo È con i fiori Secondo me questa volta puoi prendere tutti i colori Forse è solo per tamarlo Che ti servono gialli Sì ma gli devi dare anche l'upgrade Ok Ha quasi finito l'ascia Bellissimo Sì beh la consumo ovviamente L'upgrade Penso qua Eh no L'upgrade si mette sul più Esatto Guardalo Ed è diventato di legno Vedi Birillo ha fuori di prendere la legna Si è diventato un alberello anche tu Esattamente Il senso era proprio quello cara mia Ora lo devi impostare come guardia Ok Quindi così Esatto Il ruolo Già fatto Già fatto Guard mi dice yes Vado Allora Ovviamente farà diversi fight E verrà costantemente baffato Birillo Vado Povero vai Sei pronto Birillo Uccidi Birillo Sei nato per uccidere Lo spider di giorno non attacca Non ci avevo pensato Dai tu un colpo allo spider Ok Vai Birillo Sei nato per questo È nato per questo Allora Cinque spider Totali Mi tocca attaccarli Oh ma Cioè per essere di legno è fortissimo Birillo Non ti addormentare però Tre Questo è il quarto Poi avrà un upgrade Ok E se è già forte così Guarda che bellino È fantastico È fortissimo Allora Primo upgrade è questa Immortale che combatta con due spade Tipo Signore degli Anelli E poi cosa gli diamo Birillo Fammi dare l'altra spada Su Questo sarebbe Troppo Sarai felicissimo Facciamo questo Stef guardalo Lo so fa troppo ridere con due spade Ti prego guardalo Fa troppo ridere con due spade Una cosa più bella che abbiamo mai visto Mi sta sciogliendo il cuore Stef L'upgrade che ti ho dato Lo del si potrebbe mettere al posto dell'ascia No A forse da un altro punto Vediamo No dove c'è il cuore In basso Ok Ok E se vedi adesso lui può avere fino a 32 di vita Se gli dai un po' di fiorellini lo curi Lui sale tantissimo di vita Ed è molto più resistente Prova un fiore bianco Che c'è qua Proviamo Sono curioso Se qua lo mangia Dove è finito? Dove è andato? È scappato È impazzito Ha visto qualche mob Birillo Oh ti calmi? Birillo Ho capito che le spade ti hanno gasato Perché sei come me Però Calma Birillo Vieni qua Ma è in wandering o no? Secondo me sì No Sì gli posso dare tutti Ok bloccalo Fai shift destro Ti prego Ti scongiuro Non ne posso più Vedi che Si è messo da solo Devi stare attento a queste cose Altrimenti impazzisce Anche perché è diventato anche veloce a correre Quindi è diventato un problema Eh spazio che cos'è il potere delle spade Allora Si sente potente Ora ne deve affrontare 5 In contemporanea Ok Non riesco a prendere Ovviamente il suo obiettivo è anche difenderti Quindi Fa parte della sua sfida È fortissimo È strabello Birillo E muoviti però Guarda Guarda L'immassacra Stermina tutto L'immassacra Adesso Aspetta aspetta Steph Devo fare una cosa importantissima Cioè? No Vabbè Non ci sta Volevo chiamarlo Birillo lo sterminatore Non funziona Vabbè Vado Aumentiamo la difficoltà Vai Questo basta attaccarne uno Esatto Uno con due colpi Eh vabbè Con due colpi ammattare il pigman Ok Nessuno Aspetta Se don colpa a Steph In quanti colpi ti uccide Steph Sono in cosa Quindi non puoi Dai Levatela Ti do una cosa divertente Ti prego Dagli quest'upgrade È ora di accelerare Ora gli diamo gli upgrade Proprio di ignoranza E direi anche di renderlo qualcosa di più bellino Ok Tipo Ce l'hai fatta? Sì Questo Ok Così Birillo diventerà anche pregiato Ok Fallo Corri Fatti seguire da lui Guarda come corre È velocissimo Falza Birillo Dai Ha un po' di problemi con le altezze Vero? Sì Povero Ok Allora Aspetta Fiori Lui ha bisogno però di energie Tanto non viene mai picchiato Perché li ammazza prima Ma lo so Etta Ma che sei pazzo? No Vai Birillo Ora muoviti Birillo Birillo E tanto si incaglia Birillo Ma non è che tu lo dovresti impostare Impostare come combattente? E non solo come guardia Sai che non lo so Vediamo Vediamo Continua a dare i colpi tu Perché ho notato che lui li picchia Solo quando tu li colpisci Vedi? Se tu colpisci a spam Lui picchia tantissimo Vediamo Vediamo se ce l'ho A fianco e su non Esatto Haunting Sì Vediamo Era lei che aveva sbagliato Lo sapevo Allora aspetta che ti do un altro upgrade Io penso che i consulini se lo ricordino Da quando l'avevi fatto vedere Ma ha un inventario Con 2000 opzioni Sto cosettino Lo so Lo so Cioè è difficile ricordarsi Questo qua gli permette di attaccare Di swing Ancora più veloce Dovrebbe essere quello No? Forse è su chop? Questo Ok Trovato Pronta? Pronta che mangio Che a me comunque i mob picchiano Vada solo Questo Devi metterlo al posto del cuore Pirillo è diventato un demone Guardalo No ma gli occhi arancioni Agli occhi di lava È bellissimo Ok cosa mi avevi dato questo? Sul cuore Sul cuore Sul cuore Ok Praticamente così Praticamente così A parte che ha 140 di vita Ma ha sbloccato l'elter regeneration Quindi Si cura da solo Grazie Detto in due parole Consulini Abbiate pazienza Steffi Lo ripeto sempre Però Bisogna sempre ricordarlo Dargli quest'upgrade Un attimo Ok Visto che l'abbiamo reso un demone Povero Pirillo È un demone Dove lo devo mettere? Non lo so Ok Allora Aspetta però è troppo lento Fammi cercare di fiori Ci penso io Ci penso io Gli do io dei fiori No Non è tuo Pirillo Steff non ci provare Pirillo Scappa Pirillo Ti vuole avvelenare Solo io glieli posso dare Smettila Steff È vero Steff mi hai rotto le stesse Non toccare i pirilli Vieni ti ho otto i fiori a te cara Ecco qua Vieni Pirillo Dove sei? Ha ucciso il pollo Pirillo Basta Cioè me l'hai trasformato come te Che tu uccidi i gabbiani Lui uccide i polli Dagli questi fiori Curalo Me l'hai fatto diventare Curalo Un demone per davvero Allora Sei pronta? Pirillo i polli no Io te lo dico Sei pronta? Aspetta Ha molta fame Steff È pericoloso Vado? Sono rimasti solo 4 volte Vado? Dai Sta morendo Davvero? Boh secondo me sì Ma non credo dai Sono troppi Lo picchiano Guarda che picchiano forti Poi perché ce l'hanno con me Che volete? Dai ce la sta facendo Ce la sta facendo Ok Sono pochi Dai Pirillo che non muori No non ce la fa Dai oh Steff Sono troppi Eh vabbè ma Gli ho dato tutti gli upgrade Del mondo Non mi può schiattare anche così Eh sì È un po' scarso però eh Tu sei scarso Eh no Cioè l'ho mandato a 150 di vita Gli ho dato il wither attack Eh ma guarda che c'è picchiano bene i pigmen Lo so Cioè anche a te fanno malissimo Allora l'hai recuperato Pirillo Figurati sia un povero Pirillo Cosa possono fare Allora proviamo l'ultima volta e poi basta perché sinceramente mi ha già deluso Pirillo Tu sei una delusione Facciamo così Ok Facciamo così Tieni un upgrade anche di doppia spada di diamante Ok Poi rirendilo ossidiana Ah gliele posso dare anche così Ottimo Ok Mi sa che gli è rimasto il potenziamento del cuore vero? Fermo Pirillo Togli lì hunting Conviene L'ho capito Basta però Fermati Ti conviene Allora basta Poi Non so cosa sia No non ci serve perché non vogliamo renderlo un farmer Il wither upgrade Gli altri upgrade gli sono rimasti Quello del cuore, quello della speed e quello del wither Ok Quindi gli ho dovuto rimettere questo adesso Quindi manca Il swing upgrade ce l'ha? Eh non mi ricordo qual è? Controlla Eh come lo controllo? Fermo Eh allora Eh a questi guarda Ti sto buttando tutti quelli da dargli L'obiettivo è renderlo massimo upgrade di tutto Ok Così vediamo quanto è forte Ti ridò anche dei fiori così Allora swing Lo ricuri Questo qua Ok Il wither ce l'ha già Strength dove andrà qui? Ok Manca? Uno con la spada e poi altri due Quindi manca lo swing? No lo swing me l'hai dato No 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 Tu hai preso quello del danno della spada Secondo me Prova Ok No vedi me l'hai dato L'ho messo qui Quindi non ha il damage della spada? Eh penso di sì Penso di sì Non me lo dice Non me lo dice Quindi non ti ho posto dire Aspetta Sì mi ero confuso io Hai ragione Tieni Ok Vediamo un pochettino Mentre si sta autocurando Perché è intelligentissimo Gli altri che mancano Non so neanche cosa siano Però è diventato fortissimo Allora Aspetta Dammi altri fiori Esatto Tieni Full curalo E adesso li deve distruggere Guarda come mangia Cioè io ci li vado pesante O ce la fa O ce la fa Birillo È questione d'onore Ti ho dato tutti gli upgrade del gioco È un mostro adesso Guardalo Cioè sì Comunque di bedrock è bellissimo Vado? Cioè di bedrock Di ossidiano è bellissimo Con quegli occhi di lava Ti ho contagiato la cosa di confondere Eh lo so Perché tu lo ripeti sempre La chiami sempre bedrock E quindi mi confondo È impostato su haunting? No Impostalo Povero Fermo Ok Vai Birillo È il tuo momento Vai Credo che se tu lo metti su wandering Invece che following No è su wandering Però non lo sa adestrare Appunto lo devi mettere su following Non wandering Con wandering va a passeggio da solo E fa un casino tutto il tempo Fermo Ok Vedi Adesso li one shot Cioè non lo stanno neanche attaccando Da quanto li one shot Aspetta Non lo so Provo a picchiarli Vediamo Prendono me Non lo so Penso che li one shot E non fanno in tempo Ad attaccare Non ho capito Che sta succedendo Cioè è diventato un demone Sì Bravo Birillo Tieni i fiori A me fa un po' paura Picchia steppa adesso Cioè così Una alla volta Unita testa Poi non so perché non lo attaccano più Prima lo attaccavano Immortale Vabbè Birillo è diventato fortissimo Comunque è troppo figo avere Poi ce l'ha con i polli Appena gli è passato il pollo di fronte Prima del pigman ha ucciso il pollo lui Non gli piacciono In ogni caso Io direi di fermarci così Con Birillo che finisce di sterminare tutti Qua sotto Comparire un altro video Se non l'avete ancora fatto Iscrivetevi al canale E cliccate la campanellina E direi che ci possiamo fermare così